Quali sono le tue ultime parole? Voglio ridurti a brandelli, idiota! E i dadi truccati mi ha dato! Guardia, arrestatelo! Tu osi sporcare col dubbio il mio onore? È lui quello che ha barato! Arrestate lui! Ha derubato questi marinai con una truffa! Ah, ora sono io il ladro? Guardati un po' lo specchio, amico! Ti conviene restituire i soldi o io... Angarda! Angarda te! Ti concederò l'onore di una rapida indolore! Morte! Mano con questo! Combattiamola pari! Quali sono le tue ultime parole? Voglio ridurti a brandelli! Idiota! Che mediocrità! Lascia che sia la tua spada a parlare! Lo farà! Sarà loquace fino in fondo! Ah, ah! Flandi questo! Ah, ah! Ah, ah, ah! Brutto smorfioso! Saltellante babbeo! Combatti come mia sorella! Quel gendarme di tua sorella è un complimento! A scalzone! Vaggio! Lo faccio no, lo faccio no! Madame Messeri, abbiamo deciso che parte! Grazie per essere venuti, siete stati magnifici, a presto! Adios! Congratulazioni, sei bravissimo! No, è bravo sei tu! Molto bravo! Davvero molto bravo! Dovevamo tenerci le spade, credo! Già! Già! Ho un piede! E qual è? Tu l'accaretti, e io scappo! Grazie, grazie, dalle! Ancoli là! Arrivederci, grazie! No! Ce la facciamo, scommetto! Due pesetas che invece no? Ci sta! Ci sta! Hai perso! Che sta succedendo? Siamo in un varile, la mia sapienza si ferma qui! Dobbiamo muoverci in fretta! Al tre, saltiamo fuori e corriamo al molo! Bene, bene, sì, magnifico! Uno, due, tre! 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 Pronto? Bene, riproviamo forza! Uno, due, tre! Scusate, chi ha ordinato i... Cetriolini? Chi? Chi? Per... Le, di e... L cima di tutto!